Nella giornata inaugurale della 52esima edizione del Vinitaly di Verona, chi si aspettava di assistere a quello che era stato definito il Pacto dell'Amarone, il vino più blasonato della città veneta, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è rimasto deluso. I due primi attori dell'attuale fase politica italiana non si sono nemmeno incontrati fra gli stand della più grande rassegna vinicola mondiale. Tra un bagno di folla e decine di selfie si è parlato solo di vino e di chi lo produce. Siamo qua a Verona a portare omaggio agli eroi delle imprese italiane, qua si parla di vino, di fatica, di sudore, di salute, di esportazione, di lavoro. Voi non dovete mettere in competizione i vini, ognuno ha la sua specialità, ognuno ha la sua eccezionalità ed è questa la forza dell'Italia. Ognuno con le sue eccellenze fa grande l'Italia. Sul più grande palcoscenico vinicolo sono salite anche altre personalità politiche, ad iniziare dalla Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che ha elogiato l'Italia che lavora, l'Italia che produce, che riesce a coniugare la sapienza delle tradizioni con l'innovazione tecnologica e con le opportunità rappresentate dalle nuove frontiere del commercio digitale. Consentitemi anche un apprezzamento sincero alla straordinaria realtà fieristica veronese, di cui il Vin Italy rappresenta una delle tante eccellenze, a dimostrazione di come sia possibile costruire realtà virtuose e in grado di reggere la competizione globale. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato di un settore in grande espansione, il cui fatturato con l'estero ha raggiunto la cifra record di quasi 6 miliardi di euro. Cresce bene l'export a livello internazionale e ne è una riprova che su 4.300 espositori del Vin Italy sappiamo che questi espositori venivano da 33 paesi diversi, quindi anche qui crescono di molto, quasi il 40% dei visitatori sono stranieri, questo ci fa ben sperare anche per il futuro. L'ennesima sfida per la Liguria, dove abbiamo dimostrato che il centrodestra è unito con la presidenza della regione Liguria di Toti, è capace di dimostrare quando va al governo l'idea del centrodestra, del buon governo, cioè dell'attenzione alle cose concrete, all'attenzione ai cittadini ed è capace di dimostrare che riconquista città dove non si è mai governato, quindi o dove si è governato e poi alla fine si è perso il governo della città. Mi sembra che sia una bella sfida, vale per la Liguria che è un modello ed è diventato un modello anche come risposta al Movimento 5 Stelle che vorrebbe il centrodestra non unito, ma è una sfida anche per l'Italia. Osterremo appunto la candidatura di Luca, saremo nella sua lista civica e credo che sia la dimostrazione di come si è capace di mettere a disposizione capacità, qualità, vicinanza ai cittadini a disposizione dell'intera coalizione, è anche un buon riconoscimento. Ho un'amicizia con Claudio Scaiola storica perché abbiamo lavorato insieme per tanti anni in Forza Italia, rispetto alla sua scelta non credo che i ritorni funzionino, però voglio dire grande rispetto, credo che Imperia abbia bisogno di un buon governo, di un governo del centrodestra unito che in sinergia con la regione ma anche con quello che faremo a livello nazionale possa ridare forza a una città come Imperia e Luca è in grado di farlo. Dopo di me il governo non ha fatto molto per quanto riguarda gli impegni che ci eravamo presi, non era solo quello di completare ovviamente il raddoppio che c'era, che era previsto anche dopo quello che era accaduto, ma era quello di finanziare per tratti lo sviluppo fino a 20 miglia che è l'asse fondamentale di una regione ma di un intero sistema paese che vuole essere capace di pensare alle infrastrutture come elemento di collegamento, è una delle sfide che avremo, io credo che più che agli altri bisogna pensare a noi, alla capacità del centrodestra di essere buon governo e di darsi le priorità che sono poi le priorità dei cittadini, per noi le infrastrutture sono un elemento prioritario, tra l'altro in una città come questa. Sono veramente contento di questo, è il primo incontro con i bighe nazionali che verranno a Imperia a darmi sostegno, non solo il primo incontro perché Maurizio è un caro amico ma perché ha già rimarcato lui l'importanza delle infrastrutture per Imperio e per tutto l'opponente Ligure, nei prossimi anni dobbiamo uscire da questo isolamento, abbiamo bisogno di un grosso aiuto a livello nazionale, Maurizio è stato un ottimo ministro delle infrastrutture in passato, ci auguriamo che i partiti che mi sostengono, che sono tutti i partiti del centrodestra, riescano ad ottenere delle posizioni di governo importanti perché possono aiutare il nostro territorio a risolvere il problema delle infrastrutture, avete parlato del completamento del raddoppio ferroviario, da Andorra fino alle Ligure, ma è importantissimo anche il traforo del Nava, quindi la galleria da Cantarana ad Armo, è altrettanto importante poi in tempi magari un po' più lunghi, l'Aurelia Bis d'Imperia e bisogna anche pensare al raddoppio dell'autostrada dei Fiori, alla famosa Albenga, Carca, Repredosa, sono tutti temi chiaramente non di carattere strettamente locale però fondamentali per poter rilanciare la città d'Imperia, quindi ancora grazie Maurizio per essere qua con noi. La Giunta Comunale d'Imperia ha approvato il piano triennale per le opere pubbliche che dovrà ora passare al baglio del Consiglio Comunale. Il piano valido fino al 2020 prevede interventi per un totale di oltre 40 milioni di euro suddivisi nei tre anni. Una delle opere più importanti, finanziata dallo Stato con 18 milioni attraverso il bando per le periferie, è quella relativa al riuso delle aree di smessa della ferrovia che prevede la realizzazione della pista ciclabile. Spiccano poi interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica di alcune scuole, la copertura della biscina a Cascione e interventi per la ristrutturazione del teatro Cavour. Sempre al Consiglio Comunale Imperiese toccherà inoltre esprimersi in merito alla sistemazione degli spazi del mercato settimanale del giovedì di Porto Maurizio. La questione degli spazi del mercato portorino era stata ritirata dalla discussione della precedente seduta del parlamentino imperiese in quanto alcuni consiglieri avevano espresso perplessità e chiesto un approfondimento. La nuova planimetria del mercato ha ottenuto comunque il parere favorevole delle associazioni di categoria. L'amministrazione comunale di Sanremo continua a scommettere sulle crociere cercando di rendere più appetibile l'offerta. Per ora sono nove le navi attese nella rada Sanremese ma la speranza è che presto altre se ne possano aggiungere anche se resta il problema dell'impossibilità di entrare in porto per queste navi di grosse dimensioni. La soluzione è appunto la sosta in rada con il trasbordo dei passeggeri attraverso le scialuppe come avvenuto finora. Da Palazzo Civico è stato evidenziato come siano stati attuati miglioramenti tali da consentire la gestione fino a un totale di 12 navi passeggeri. Inoltre Sanremo si pone anche come escursione per i passeggeri delle navi che fanno scalo a Monte Carlo e sta studiando pacchetti che prevedono il coinvolgimento dell'orchestra sinfonica e del Casinò. Per l'accoglienza dei croceristi è stata invece confermata la collaborazione con l'istituto Ruffini ai Cardi. Niente governo ma trattative in corso o meglio trattative di lungo corso ma nonostante l'attesa arriveranno le novità e anche le complicazioni per il cittadino che deve aprire il portafoglio e pagare le tasse. Da oggi si parlerà di dichiarazione dei redditi e i poveri italiani dovranno sbizzarrirsi sul web per cercare la dichiarazione precompilata nella quale troveranno per la prima volta anche il dettaglio di come sono state utilizzate dallo Stato le nostre imposte. Avremo un partner tecnologico per la compilazione assistita che stando all'agenzia delle entrate renderà più facile ogni operazione. Avremo a che fare con le detrazioni anche per l'asilo nido e ci penserà il robot se così lo vogliamo chiamare. Dicono che tutto è pronto che 30 milioni di denunce per la dichiarazione dei redditi sono lì che aspettano il cittadino sono pronte. Non nascondiamo un certo timore perché le novità non diciamo che fanno paura ma ci mettono una certa pressione e che il signore ce la mandi buona perché se in molti casi sbagliano anche i commercialisti figuriamoci i partner tecnologici. San Bernardet su Biru. Nacque a Lourdes nel 1844 da un povero mugnaio. Vorrebbe andare a scuola ma è così povera che rimane l'alfabeta. L'11 febbraio 1858 mentre si recava alla grotta di Massabiel in cerca di legna da ardere le apparve la Madonna. Per 17 volte dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 la Madonna apparve a Bernardet procurandole momenti di estasi assoluta. Per mezzo di lei la Madonna fece scaturire la prodigiosa sorgente del miracolo dove ancora oggi si recano a pregare pellegrini di tutto il mondo. Cagionevole di salute visse sei anni presso l'istituto di Lourdes dove fu ammessa al noviziato. Da religiosa assunse il nome di Suor Maria Bernarda. Morì a 35 anni il 16 aprile 1879. È invocata per combattere il vizio della superbia.